Don Vincenzo, qui in chiesa a Schilpario avete allestito una mostra. Sì, abbiamo colto l'occasione della disponibilità di Umberto Gamba. Lui aveva già dipinto alcune immagini che riguardano proprio le opere di misericordia corporali e spirituali. Allora noi abbiamo approfittato dell'anno della misericordia proprio per esporre queste opere accompagnate anche da qualche contenuto, da qualche frase che potesse dare significato all'esposizione che abbiamo fatto. Anche perché le opere di misericordia quest'anno anche il nostro Papa ce le ha caldeggiate nel riscoprirle e soprattutto nel viverle, queste opere di misericordia. E alcune opere sono note, ma ce ne sono diverse, forse una mostra le consente anche di conoscerle meglio. Sì, ci consente non tanto di riscoprirle come se siano cose dimenticate, ma riscoprirle nel senso che ci riguardano ancora da vicino. Perché certe opere di misericordia, dico alloggiare i pellegrini, dar da mangiare agli affamati, vestire gli nudi, visitare i carcerati, sono opere che penso che siano contemporanee proprio al momento storico, da sempre, ma in particolare alcune sollecitazioni del momento storico che stiamo vivendo. E il Papa tra l'altro ci ha aperto proprio anche questa porta, che non sono solo le porte, porta santa di alcune cattedrali, basiliche, oppure le tante chiese giubilari che ci sono in ogni vicariato, nel caso della nostra diocesi, ma non solo. Ma abbiamo proprio anche l'indulgenza plenaria che si acquista proprio anche andando a far visita, per esempio un ammalato, per esempio un carcerato, oppure nell'ospitare il pellegrino. Cioè c'è la possibilità anche attraverso questi gesti concreti di carità di vivere l'esperienza dell'indulgenza plenaria. Perciò diciamo che ci ha avvicinato proprio il Papa con questo anno della misericordia, ci ha avvicinato proprio alle possibilità, ce le ha date a portata di mano, con le situazioni concrete di cui penso che ogni comunità abbia la possibilità di realizzarla, senza dover andare per forza a essere pellegrini, non so, dico Roma o la Terra Santo o chissà dove, ma proprio essere pellegrini nel compiere queste opere nelle nostre case, si può dire. Perciò ci ha aperto una strada molto vicina.